A partire dal 23 maggio, in occasione dell'apertura del nuovo supermercato, animazione, degustazioni, divertimento e tantissime promozioni renderanno piacevole e conveniente il tuo shopping. Domenica 26 maggio, a partire dalle ore 17, non mancare alla grande festa. Ospiti della serata, direttamente da Cento Petrine, Jacopo e Viola Castelli, presenta Armando Avellino del Grande Fratello 12 e tanti altri eventi allieteranno il pomeriggio. Street band sui trampoli, artisti di strada, esibizioni di fitness e spettacoli di arte circense. Vi aspettiamo numerosi, non fatevelo raccontare. Centro Commerciale Il Giardino, ad Avola, incontrata a Risicone, Circonvallazione, Avola Noto, aperto tutte le domeniche. Ascrizione giçiele a cura di QTSS Che siano merda di QTSS Che siano bench, non fatevelo raccontare. Ligantazia allowingere ore 17 anni la siano, attrappom